Contract, soluzioni d'arredo e design di interni, un altro workshop firmato Action Group, ancora una volta nella splendida cornice dell'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, Milano, mercoledì 11 dicembre 2013. Partner tecnico della giornata, anche Savio Interiors. Savio Interiors è un'azienda di recente fondazione che deriva dall'azienda madre che è Savio Firmino, un'azienda di 73 anni di esperienza stabilita a Firenze. Savio Interiors è stata fondata da circa 3 anni ancora dalla famiglia Savio rispondendo all'esigenza del settore ospitali, quindi trasferiamo l'esperienza della casa madre su una tipologia di intervento che va a inferire sulla sfera ospitali. Ci occupiamo quindi di realizzazione di hotel, ci occupiamo di grandi residenze private, di palazzi, ci occupiamo di fornire un servizio che abbia un livello qualitativo che origina da quello della casa madre, quindi di alto livello VIP e luxury. e tutto questo viene fornito sia con un prodotto di tipologia classica, sia con un prodotto di tipologia più eclettica, anche potendo, grazie al nostro studio di architettura interno, dare delle soluzioni di tipo più vicine al gusto contemporaneo, al moderno, quindi con un'ampia varietà di prodotto e di servizi. Una considerazione sul perché avete deciso di partecipare a questa giornata milanese? Sì, lo abbiamo fatto proprio perché volevamo innanzitutto confrontarci con un tipo di esperienza che per noi non è nuova, ma che comunque è ancora, diciamo, giovane, quindi la necessità di vedere quali altre aziende avevano deciso di presentare i loro servizi, confrontare il livello anche di offerta del servizio stesso, al di là, diciamo, dell'offerta di prodotto e di servizio inteso come prodotto, per l'interesse del ciclo di conferenze e di interventi che sono stati organizzati, perché avevamo già contatto diretto con alcuni di coloro che sono a intervenire e anche per il piacere di incontrare gli architetti che stanno venendo a visitarci e scambiare con loro esperienze e verificare in solido, diciamo, quale strada, quale percorso possiamo percorrere congiuntamente. Grazie